Sono due palle così quella canzone eh ragazzi, c'è impossibile la cantare Buonasera! Però la canzone l'avete sentita, non è vero che ero intonato, ero molto stonato, devo dire la verità Però era difficile sta canzone, porca miseria, poi era una nenia, cioè quando la cantano loro è figa Perché loro hanno tutti gli effetti pazzi, poi le voci pazze, no? Di Blanco, Mahmood, pure là tutto pazzo Che fanno tutte le voci pazze, però senza le voci pazze che fanno loro è un po' una nenia Sono due palle così quella canzone eh ragazzi, c'è impossibile la cantare Infatti, cioè io ci ho provato eh, però mamma mia, ho sognato di danzare con te Un peccone di diamante Cioè alla fine mi sto addormentando eh, però, però, il videoclip fa spaccare dal ridere Quindi la canzone ho visto che comunque mi ha fatto divertire, quindi alla fine sono contento Ne è piaciuto, sono contento A un certo punto ho detto ah, questa cosa non sta da fare, è troppo difficile Però poi ho detto ah, io gliel'avevo promesso, l'ho detto in live che l'avevo preparata Quindi devo metterla allo stesso, anche se non è venuta proprio bene come avrei sperato Però va bene Sono contento che vi è piaciuto comunque, ho visto i commenti, vi è piaciuto un sacco Oggi ci abbiamo la parodia appunto di Brivi Poi abbiamo il ritorno della serie del griff, pazzesco Dove sto, ho imparato a utilizzare le TNT customizzate per griffare Ed è stato bellissimo, ho usato quella di Among Us come prima, è stata bellissima Ha fatto un cratere enorme, poi meritatissimo come griff Infatti ditemi se secondo voi è stato meritato o no Penso proprio di sì perché era un bel mondo pieno di ingiustizia da purificare